Nonostante le differenze, i cattolici anglicani procedono sulla strada del dialogo ecumenico alla ricerca della piena comunione e sanno anche che spesso il peso dell'ambizione limita l'annuncio del Vangelo. Lui ha ribadito Papa Francesco incontrando in Vaticano il primata della comunione anglicana, il pastore Justin Welby, arcivescovo di Canterbury. Il Papa ha parlato anche delle comuni preoccupazioni di fronte ai mali che affliggono la famiglia umana ed ha citato l'orrore di fronte alla piaga del traffico di esseri umani e le diverse forme di schiavitù moderna. In questo vasto campo di azione, ha detto che si presenta in tutta la sua urgenza, sono state avviate significative attività di cooperazione sia in campo ecumenico sia con autorità civili e organizzazioni internazionali. Penso in particolare, ha detto il Papa, alla rete di azione contro la tratta delle donne creata da numerosi istituti religiosi femminili. Ci impegniamo a perseverare nella lotta alle nuove forme di schiavitù, ha insistito Papa Francesco, confidando di poter contribuire a dare sollievo alle vittime e contrastare questo tragico commercio.